bene eccoci a un nuovo special del salotto monogatari proseguiamo la nostra breve serie sulla pornografia questa sarebbe la seconda puntata e oggi abbiamo regina e bruno del collettivo rosario gagliardo ciao ragazzi ciao 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 e claudia scadi agit porn ciao claudia ciao ciao a tutti e a tutti dunque del di entrambi in realtà abbiamo parlato nello scorso pornogatari quando c'erano giorgia elvira di nocturno perché vi abbiamo citati sia il collettivo che il progetto agit porn nella nell'alvio diciamo di quello che si può chiamare un po il porno alternativo il post porno o il porno politico anzi oggi vedremo di dare un senso magari a queste a queste denominazioni però nello specifico i gagliardi hanno girato il secondo lungometraggio il secondo giusto sì cioè love meetings dopo camper che era uscito invece un paio di anni fa nel 2019 e quindi passo subito la parola a loro a questo a questo film ha collaborato anche con un cameo claudia e passo subito la parola a loro su da dove gli è venuta questa idea perché poi parleremo delle differenze che ci sono rispetto al film precedente e qual era un po il loro obiettivo con love meetings allora l'idea è venuta perché l'idea di fondo iniziale era porre un po l'accento sui sentimenti sull'incontro sull'amore abbiamo abbiamo chi siamo messi questo questo incipit questo questo piccolo obiettivo di parlare dell'amore e poi siamo stati a guardare quello che succedeva poi quello che succede insomma all'inizio la parola amore in realtà non si era così ben definita era sicuramente incontrare l'altro il desiderio dell'altro e effettivamente poi il desiderio dell'altro il desiderio in generale è stato il protagonista il desiderio e forse anche altre istanze erotiche e relazionali e sicuramente un film di relazione poi alla fine si scopa e spesso si cerca di scopare altre volte si scopa in maniera alternativa diciamo e scopare in senso di fare l'amore proprio quindi che questo è l'amore poi siccome i nostri lavori c'è sempre una forte componente autobiografica anche un po autoterapeutica noi volevamo anche riflettere sulla capacità di trasmettere agli altri all'altro all'amato del momento il proprio desiderio perciò chiediamo all'inizio di ogni love meeting noi chiediamo a chi è lì con noi di provare a comunicare al suo amante quale che sia il proprio desiderio quello che lo fa stare bene quello che lui vuole sì è anche quello che sa che sicuramente non vuole quindi dare quelle indicazioni necessarie all'amante eventualmente occasionale o comunque che stai conoscendo e stiamo sempre conoscendo l'altro quando amiamo l'altro di esprimersi di esprimersi anche verbalmente cioè quindi dire questo mi piace questo non mi piace tipo mi piace non so è dietro il culo non mi piace non sentirmi desiderato ecco cose di questo genere qua questa cosa del desiderio in effetti è palese c'è molto presente anzi da un certo punto in poi regina dice ai vari partner cosa desideri che io faccia e puntualmente poi di volta in volta magari è dominatrice oppure sottomessa insomma ci sono tutte le varie le varie tutta l'eterogeneità dei rapporti amorosi e sessuali quindi questa cosa del desiderio è molto presente e mi è piaciuta molto personalmente e però volevo anche invitare a riflettere sul fatto che a differenza di camper che era un film secondo me molto gioioso molto dolce io l'ho trovato molto materno era un film che alla fine parlava di cominciava parlando di famiglia no ridefinendo la famiglia in un certo senso come quattro persone che scopano in un viaggio in camper e questo film anche nei momenti abbastanza crudi anche questo discorso delle maschere anche se la maggior parte dei partecipanti se le tolgono però non tutti anche nei momenti crudi un po' in cui emergono quei rapporti di potere anche solo recitati che però fanno parte un po' della dinamica della sessualità come avete vissuto questa cosa se condividete questa questa cosa che ho detto e se era nelle intenzioni o se è uscita fuori spontaneamente bene le nostre messe fuori spontaneamente noi abbiamo un soggetto poi però quello che succede quello che avviene così di suo è stato sicuramente un cambio nelle nostre vite nelle nostre prospettive camper è un film piccaresco è un road movie è un film dove ci divertiamo io ricordo ancora quel viaggio come la più bella vacanza della mia vita e mentre e non era una vacanza stavano andando per una performance quindi cioè è proprio stato un bel momento e mentre ehm love meetings è uscito fuori in un momento molto diverso molto più scuro fuori c'era il covid e dentro di noi anche c'erano parecchie oscurità parecchi turbamenti quindi è chiaro che il film è completamente diverso riflette la nostro il nostro momento eh secondo me poi sono lì incontriamo persone che hanno risposto a una call in realtà sono tutte persone che io conosco già in qualche modo anche magari solo virtualmente o persone con cui ho altri tipi di rapporti o anche persone con cui eh ho già trascorso eh esperienze sessuali magari anche davanti alla telecamera ehm ma sono comunque persone che io incontro per due ore e tre ore insomma il tempo di girare e ehm siamo quasi in un non lo so come se fosse una parentesi una parentesi frenetica io poi ho messo tutti gli appuntamenti uno dietro l'altro perché volevo fare l'after volevo vivere questa esperienza dell'after però uno alla volta perché ovviamente ci sono anche le regole covid quindi il più possibile vicini ero stanca eh si sente anche questo secondo me il film mano a mano è proprio un'esperienza diversa più performativa forse ecco ecco sì il rapporto tra tra il film e la performance questo mi interessa perché voi nascete performer ovviamente ehm per cui eh ecco come secondo me che differenza c'è che differenza sentite tra eh fare un film del genere o anche camper che comunque anche quella è una lunga eh performance ovviamente e e invece esibirsi dal vivo cioè cosa cosa cambia sia a livello di esperienza che a livello di quello che pensate di poter comunicare eh in qualche modo al pubblico e comunque però il setting non è quello del palco spienico del pubblico davanti a te e quello fa una grandissima differenza il fatto che quando fai una performance dal vivo e e e e e e one take cioè la fai se come viene viene invece il film perché noi sinceramente non lo facciamo quando mai si può anche dire a pezza cosa rifacciamola ecco non succede spesso però non avere il pubblico davanti comunque ha una grandissima differenza in uno degli episodi del film a un certo punto Bruno esce dalla stanza e lascia la telecamera appoggiata su un cavalletto eh perché la la persona che era con me eh l'ospite sentiva parecchio anche la presenza la presenza di Bruno oltre che della telecamera ovviamente quindi c'è un livello di intimità diverso è molto più introspettivo il momento in cui c'è solo la telecamera e il il cameraman regista insomma Bruno ecco ecco io proprio di questo questo volevo volevo che diceste nel senso ehm la maggiore intimità eh entrambi i film mi sono sembrati molto molto intimi molto privati nel caso i love meetings comunque c'è un tentativo di stabilire un'intimità anche con eh con una serie di persone esterne alla propria vita anche se come tu hai detto insomma eh comunque le le conoscete e in particolare nella nel segmento in cui c'è anche Claudia eh una cosa molto divertente che vi mettete a eh prendere in giro un po' gli luoghi comuni, gli stilemi diciamo del porno americano eh mainstream eh Claudia insomma parla del fatto che mentre godono guardano la la macchina, no la macchina e la presa non guardano la la il partner oppure gli gli lulati esagerati o cose del genere ecco volevo chiedere a a tutti e tre il vostro rapporto con la eh con questo tipo di pornografia molto sì diciamo pure mainstream o dominante e e cos'è che nel vostro lavoro pensate di dover sovvertire di questo modo di rappresentare la sessualità? Se vuole può partire Claudia che ancora non ha parlato. Allora eh innanzitutto c'è da dire una cosa che io poi non sono un'attrice o una performer porno perlomeno sono più che altro una fruitrice una lo studio insomma il mio ambito di interesse è come studio quindi ehm ehm probabilmente il mio approccio anzi probabilmente il mio approccio è stato proprio da da neofita cioè mi mi sono messa a fare qualcosa che 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 non avevo mai fatto quindi mi sono trovata in una situazione totalmente nuova e mh e la scena di cui parli tu appunto quando c'è questo questa parodia della di un certo porno e mh mi è venuta anche spontanea un po' per in qualche modo mitigare la tensione, l'imbarazzo comunque essere lì a fare sesso con con un'amica mh davanti a un altro amico nonché suo marito davanti a una terza persona che era il fonico e quindi per me era tutto tutto estremamente tutto estremamente nuovo ehm eh fai bene secondo me a sottolineare questa differenza tra performance e mh e anche i film gli altri film quelli che magari siamo soliti o eravamo soliti vedere a livello di porno perché perché sì perché mh la la differenza è proprio nella nella realizzazione nella messa in scena appunto non a caso Rosario Gaiardo eh non sono un'attrice e un attore porno fanno delle performance quindi è più un agire un all'interno di una di una situazione non è un interpretare dei personaggi e la differenza è è sostanziale poi per quello che vuoi raccontare e per il modo in cui in cui lo racconti quindi non so mi viene da dire questa cosa qua ecco sì sì sono d'accordo su questa differenza e infatti ehm l'idea l'avevo anche scritto ai tempi su scivaproduzioni per quanto riguarda camper e che in un certo senso mi sembra poi mi diranno loro se ho torto che si cerchi di eliminare il più possibile la componente cinematografica cioè quella di costruzione se non con delle scelte di montaggio dei tagli ovviamente e però il più possibile in questo caso appunto la la camera fissa anche se ci sono dei momenti in cui si esplora un po' i vari lati eh delle delle posizioni delle performance e e questo quindi implica che ehm in un certo senso sia un racconto molto privato e personale cioè che i Galiardo parlino di loro stessi della loro concezione del sesso della loro vita all'interno di questi film e quindi sì credo che sia poi questa la differenza sostanziale però ovviamente lascio lascio parlare loro l'ho detto bene noi raccontiamo sicuramente la nostra intimità sono anche delle riflessioni ragionamenti esperienze che eh si cambiano al punto di vista mentre le viviamo eh io imparo cose del di me stessa e degli altri del mondo faccio ragionamenti e riflessioni politiche nel dunque vivo l'esperienza pornografica cioè l'esperienza dello sceno condiviso è maestra estrema e quindi cerco di raccontare quello ovviamente eh infatti i montaggi li faccio io e li faccio sempre io il senso della della storia lo realizzo in fase di montaggio quindi infatti c'è sempre uno differenza tra il soggetto e il risultato perché il risultato è l'impasto finale non so se ho risposto a questa cosa sì 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 no no è molto interessante perché poi eh vabbè c'è una una scuola di pensiero molto molto forte sul fatto che il cinema si possa ridurre semplicemente al eh semplicemente tra virgolette al montaggio e in effetti questa è un'altra cosa cosa è come se facesse un ragionamento per immagini e il materiale su cui ragiono è la performance fatta che per farlo ovviamente ha bisogno di un soggetto il soggetto va pensato prima però è un soggetto che è un contenitore magari è solo la location a volte sì 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 no è interessante perché love meeting sì l'ho visto anche un po' come un film teorico nel senso che ci sono eh ci sono molti punti di vista si tenta di sottolineare questi punti di vista e di metterli poi a confronto con il rapporto sessuale che segue immediatamente qualche volta mi ricordo c'è qualche punto di vista mi ricordo c'è c'è un uomo che cita la can durante il rapporto c'è quindi poi c'è una specie di una specie di convergenza tra le varie cose eh per cui sì e poi volevo chiedere a claudia invece spostandoci scusami se voglio dire il nostro pubblico ci segue cioè chi arriva sui nostri set non è raramente lo statuffatore occasionale di solito gente che ci segue ragione insieme a noi e vuole esperire esperire l'esperienza gagliarda e quindi viene in tutti i sensi si spera ma non sempre no beh anche questo è interessante perché chiaramente è la rottura un po' della barriera tra il performer e il suo pubblico questa è un'altra cosa di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata con le le autrici di nocturno eh che è una cosa molto importante perché secondo me poi non so se la vostra intenzione ma credo di sì restituisce una dimensione politica alla pornografia alla sessualità perché appunto entra eh cioè esce fuori dal 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 performer professionista ed entra poi invece nei desideri nelle vite intime dei dei utenti o dei fruitori in generale sì ricerca sul campo proprio di politica sociologia non lo so certo 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 e io assimilo una una visione del genere non so quanto quanto sbaglio o meno anche un po' con il progetto agit porn di di claudia che è una riflessione appunto non solo sul porno in sé però è su eh proprio sul nostro concetto di sessualità nel contemporaneo sulle varie eh dimensioni che ci sono intorno anche su eh io io lo vedo come uno uno dei pochi è una delle poche oasi anche di autocritica di certo pensiero politico militante e per cui volevo chiedere a claudia da dove nasce invece il suo progetto e e qual è il suo approccio rispetto a eh al genere di pornografia diciamo alternativa che per esempio è rappresentato dai dai gagliardo in questo caso allora agit porn nasce da sicuramente da uno slancio narcisistico narcisista e esibizionista che si scontra con con i limiti della della comunicazione sui social quindi il voler raccontare qualcosa sentito come profondamente spontaneo e e naturale e però che incontra appunto la censura e quindi tutti tutte le domande no che poi derivano da da questa censura quindi ovviamente io mi portavo dietro anche delle domande a prescindere da dei social però ovviamente con con queste limitazioni queste domande si sono fatte più profonde si sono anche eh moltiplicate e quindi ho ho proprio cercato uno ho cercato di costruire uno spazio dove poter non solo mettere sul piatto queste queste riflessioni ma possibilmente anche dare la cioè rendere come dire eh comunitario lo agit porn per dare la possibilità delle persone che facevano delle delle riflessioni sugli stessi temi eh o dei temi come dire contingenti ehm per vedere un po' no cioè se poi queste tematiche queste se parlare di femminismo di di politica di censura di corpi sessualità rappresentazione di di dei corpi delle sessualità insomma se se tutti questi temi potessero comunque dialogare e raccontarci qualcosa anche di più complesso e che andasse al di là di di queste tematiche precise e e rispetto al a quella che viene chiamata pornografia alternativa indipendente eccetera io io seguivo già da tanto tempo Rosario Gagliardo già dai credo da una decina d'anni noi ci siamo incontrate a fine duemila e diciannove eh però io già dal duemila e nove dieci anni prima avevo iniziato così in maniera un po' discontinua a seguirli interessarmi a a quello che facevano e mi turbava molto quello quello che che facevano sicuramente in dieci anni io sono cambiata tanto è cambiato il mio gusto è cambiata anche la mia consapevolezza su certe cose ma devo dire che inizialmente ero molto turbata e cioè mi mi spiazzava questo questo modo di di raccontare la sessualità di mettersi in scena appunto mi imbarazzava tantissimo come loro facevano pornografia paradossale era un paradosso però come dire non ero pronta a quello scenità e invece devo dire che poi tutte le riflessioni che mi hanno portato anche alla fine ad aprire agit porn è come se ci fosse stato nel corso del tempo un'unione di puntini e mi ha aiutato questo anche a relazionarmi diversamente alla pornografia che fa e al discorso alla narrazione in generale che fa mh che fa il collettivo Rosario Gaiardo quindi ehm quello scenità adesso io la ricerco cioè anche quelle riflessioni dietro quello scenità è qualcosa che io eh dalle quali sono molto affascinata e che ricerco e anche che rivendico cioè in un in la ehm ed è un po' difficile poi non sono brava a parlare a a braccio infatti preferisco la forma scritta perché almeno ci sono mille anni in cancello eccetera quindi adesso per me è un po' un po' complesso parlare tranquilla tranquilla ehm però ehm io trovo che Rosario Gaiardo sia un progetto estremamente autentico infatti Love Meetings per esempio già lo è lo si vede negli altri loro lavori però Love Meetings è proprio autentico perché vedi tutti i limiti eh di 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 i limiti proprio anche umani di relazione di anche di lavorazione stessa cioè banalmente quando giravamo la scena con con Maria Tinca eh comunque eh cioè bisognava già a un certo punto stai facendo porno e non è che stai facendo un film melodramma quindi comunque devi anche restituire delle come dire dei devi rispettare dei codici della pornografia quindi non lo so anche far vedere i genitali eh certe cose o o ehm delle pratiche in qualche modo con tutto che facevamo quello che che volevamo fare non è che si è deciso adesso c'è la penetrazione adesso c'è questo e quest'altro però per esempio tutta quella difficoltà di volersi lasciare andare voler magari venire non venire e sentirsi sotto pressione perlomeno io parlo per me di dire oddio ma devo venire per forza e se non vengo cosa succede cioè tutta questa cosa qua secondo me è estremamente autentica perché racconta un'intimità genuina comunque racconta una una relazione onesta non è appunto una messa in scena una una rappresentazione in sé è una documentazione di quello che sta accadendo sulla scena e e questa secondo me è proprio una peculiarità del del progetto di Rosario Gagliardo un po' quello che appunto dicevo prima che loro cioè fanno performance non non c'è uno script o eh appunto gli attori che interpretano l'idraulico la cameriera cioè no per adesso pensare sugli stereotipi del porno ma è qualcosa che accade che si scopre mentre mentre lo stai facendo e poi con lo col senno di poi no quando vai magari a fare il a lavorare sulla fase di montaggio c'è qualcosa altro ancora che cogli e che puoi e che puoi raccontare e quindi non so se ho risposto alla tua domanda però ho detto cose no no sì ehm sono d'accordo nel senso che il quello quello che percepisco io è che eh sia un 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 tipo di approccio alla sessualità che appunto non nasconde nulla quindi anche le fasi imbarazzanti magari eh delle riprese o gli incidenti tipo un po' di un po' di cacca dopo un anale questa cosa me la ricordo anche in camper eh insomma eh sono cose che ehm che succedono spontaneamente rimangono lì non vengono nascoste appunto eh però infatti la mia impressione se posso aggiungere scusa qualcosa una cosa che io apprezzo tantissimo dei lavori di Rosero Gagliardo è appunto il è una relazione molto onesta con lo scenità perché a me sembra forse soprattutto negli ultimi anni che ha preso piede questa eh questa narrazione della della sessualità che però deve essere sempre molto bella molto eh e che quindi se ci pensiamo non ha molto di diverso da quella pornografia che critichiamo no la pornografia da non so il classico porno anni 90 californiano per intenderci e prendiamo questo d'altra parte Erika Last che è incensata da tutti per carità belle scene belle persone ecco io invece trovo che non allora se se fai porno stai facendo qualcosa di osceno perché metti sul piatto una delle cose che desideriamo di più vedere ma di cui ci vergogniamo di più no cioè che ci si vergogna vedere gli altri che scopano diciamocelo chiaramente invece Rosero Gagliardo è molto sereno su questa cosa perlomeno io da fruitrice dei loro film dei loro contenuti scritti delle foto delle performance cioè è una ti riappacifichi con questa cosa perché c'è una una continuità del discorso non non cercano di eh cioè di fare i i film degli orsetti gommosi cioè è estremamente onesta come rappresentazione cioè la pornografia è oscena non possiamo far finta che non lo sia è oscena ed è per questo che ci arrapa è per questo che ci turba che ci affascina che ci intimorisce e e tu trovi quelle cose cioè io quell'emozione quelle riflessioni le trovo nei loro contenuti e invece in altri film posso dire sì belli sti contenuti mi sono anche arrapata per carità però li trovo sempre un po' più ipocriti un po' meno onesti non non lo so e invece questa cosa qua a me piace molto perché cioè sono sceni sì dicono cose oscene sì imbarazzano sì ma cazzo lasciamoci imbarazzare no cioè è bello farsi scoprire mentre stai scoprendo l'altro non so scoprendo vabbè sì mentre scopri il contenuto scopri il corpo e e tu ti scopri come spettatore quindi ti ti anche tu ti metti a nudo guardando un porno secondo me e quindi è questa la cosa che che mi piace tantissimo di loro dei loro film ecco io di questa cosa volevo in effetti parlare perché già la scorsa puntata sono usciti fuori è uscito fuori un discorso simile sui problemi di certo porno politico anche femminista troppo troppo patinato troppo leccato privo di tutte le contraddizioni le brutture anche che ci sono nella nella sessualità ed era uscito appunto il nome di erica last e anche di altri e volevo chiedere ai galliardi se sono fruttori di questo genere di pornografia cosa c'è che va e cosa c'è che non va magari in nel porno cosiddetto non mainstream di cui in teoria loro dovrebbero far parte poi non so se si sentono davvero parte di un di un qualcosa del genere però se trova se trovano contenuti interessanti in quel frangente lì e nel caso invece cosa c'è che che forse andrebbe cambiato che in effetti come diceva claudia è semplicemente l'altra faccia della medaglia del porno californiano standard domanda un po difficile però andate pure mi pare che si riallacci anche un po alla domanda che facevi prima comunque intanto grazie claudio certo certo parole e poi ecco sono sempre stato un grande consumatore di porno più o meno amatoriale perché gli credo un po di più gli altri non riesco a credergli e alla fine non funzionano e quindi io erika last per esempio io la vedo mainstream per me fa parte di qualunque produzione non riesco tanto ad apprezzare la differenza tra brothers e erika last è costruito uguale ci sono dei storielli sono tutti carini le immagini sono belle nitide perfette più o meno insomma non lo sono non mi sembra mestri poi in particolare ecco erika last vedo che c'è tanto una delle produzioni mainstream molto orientate in un senso che politicamente non fa le volte penso venga associato al 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 fruitore femminile e dico ah mia però questa storia che corno per donne è quello noioso un po mi spiace però creato comunque un mercato che prima non terra che fa lavorare in maniera diversa fare lavorare le persone nuove crea comunque una riflessione a non è satana comunque la domanda che tu aspetta com'era esattamente che ridimmela era il cosa 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 c'è che vai che non va in queen nelle altre non dico produzioni perché poi bruno dice giustamente che differenza c'è tra le produzioni sì 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 ma io non lo so io ma io sento spesso parlare criticare il porno mainstream come se fosse foriero di cattivi costumi addirittura il porno che insegna lo stupro il porno messi in che insegna a scopare senza sentimenti se ne sentono di tutti i colori sono cinema sono prodotti e targettizzato risponde al mercato e come se no se diciamo che il porno mainstream è male perché fomenta lo stupro allora diciamo che rambo è male perché fomenta le stragi le sparatorie beh sì la retorica è quella certo colpa e dei videogiochi violenti quando sparano nelle high school americane io non credo che sia così quindi non credo neanche che fosse si possa dare al porno mainstream non mainstream per quello che vuol dire non ho ben capito la colpa della cultura dello stupro per esempio del macismo o del macismo magari a non sarà il contrario al massimo nel senso sono i nostri costumi alla nostra cultura che cambiano modellano i prodotti culturali che noi facciamo quindi non può essere la risposta al mercato quindi se il mercato a questo tipo di cultura il pubblico adesso se ci sono più acquirenti di persone che ricercano un prodotto di cultura che hanno un gusto magari meno macchista allora anche produzioni come la nostra o come quelle di altri sperimentatori avranno più successo e saranno di più quindi io farei un discorso sul pubblico che sovvenziona diciamo voglio sensibilizzare il pubblico per uno prima parlava del dell'amatoriale in realtà l'amatoriale è sempre la categoria ogni anno almeno mi pare che sia sempre la categoria più cliccata sui siti sui siti porno per cui per cui in realtà in realtà il pubblico cerca un approccio molto più spontaneo ma le stesse grandi produzioni spesso fanno quello che si chiama il cinema pro m no cioè quei film che sono che imitano l'amatoriale però non sono amatoriali e la vostra per esempio è una buona via di mezzo nel senso sia versionisti però appunto c'è tutta quella spontaneità quella quella assenza di costruzione nei limiti del fatto che comunque è sempre un prodotto audiovisivo quindi inevitabilmente costruito e per cui in realtà la mia impressione è sempre stata che sì è vero il pubblico è magari è macista o è un pubblico prevalentemente maschile o è alcune volte un pubblico anche sessuofobico e questa cosa un po si riflette nei film però in realtà cerca sempre più l'approccio negli anni sempre più l'approccio spontaneo e anche non particolarmente così particolarmente raffinato delle produzioni delle non produzioni amatoriali quindi in realtà spingere su un qualcosa che sia che sia spontaneo che sia intimo che sia tra quattro mura e non su un set in california o allora anche in bezio dove volete in realtà dovrebbe essere qualcosa che piano piano recupera quel pubblico no non so se sì certamente lo è nel senso tu dici potrebbe essere un'ottima operazione commerciale perché in fondo sono che la cosa più cercata sì da una parte sì dall'altra dipende dal prodotto prima di tutto già amatoriale è una cosa ormai è una categoria sconfinata che comprende danni camori e la cento per cento allo stesso modo quindi vai a capire e poi comunque noi riusciamo comunque a essere fastidiosi un po per tutti quindi anche se possiamo questo certo certo amatoriali ci marca tutto quella crema col discendente insomma poi con l'età diventiamo più brutti più cattivi e più scuri e ogni volta prima ero incazzata adesso sono invece depressa io non so c'è sempre una volto della dea più inquietante che si manifesta in me e però è così ragazzi io che vi devo dire ma posso aggiungere una cosa secondo me la cosa interessante per esempio della produzione di rosario gaillardo e che non è facile riscontrare in tante altre produzioni è che mette sul piatto il conflitto e secondo me adesso c'è quest'idea che il nuovo porno non debba essere conflittuale e che debba essere un po troppo semplice cioè ci ci piacciamo ci desideriamo quindi finiamo per fare sesso e invece non è così cioè il sesso estremamente conflittuale per esempio a me di love meetings ha turbato tantissimo ma molto mi ha arrapato ma mi ha turbato perché non l'ho capita è stato un cortocircuito un momento dove c'è un incidente di di come dire di azione e Maria Tinca inizia cioè a lamentarsi a piangere e lì è stato è stato frastornante perché quando mai vedi una persona che che piange sul set c'è c'è la classica rappresentazione dello stupro dove lei dice no ma è ovvio una rappresentazione in realtà vuol dire sì tante che poi gode perché altrimenti steremo vedendo qualcosa di eh quanto meno inquietante e però lo sai no che quella persona in realtà non cioè sai che stai vedendo una rappresentazione invece vedere questa roba qua in love meetings wow cioè è stato potentissima questa cosa qua e non mi stupisce che la gente cerchi continuamente l'amatoriale perché sempre in questo gioco di categorie denominate abbastanza in maniera ehm come dire inefficace secondo me cioè mainstream è amatoriale cosa cosa vogliono dire non vogliono dire niente perché sono delle macro categorie non a caso e io condivido assolutamente con Bruno Erika Last è mainstream che poi faccia un mainstream magari leggermente diverso da certe produzioni ma è mainstream cioè può essere indipendente a livello di budget ma poi a livello di rappresentazione assolutamente mainstream questo sesso patinato set super wow eh mentre l'amatoriale è secondo me viene utilizzato a sproposito come definizione perché perché la gente in realtà cerca autenticità cioè la maggior parte delle persone con cui parlo io cercano appunto di vedere la gente che scopa davvero cioè vogliono vogliono guardare dal buco della serratura e il mercato questo lo sa ed è per questo che produce un sacco di di contenuti con la denominazione amatoriale perché perché si vuole cioè si cerca l'autenticità assolutamente perché la gente vuole vedere che tu godi davvero una delle cose che ti chiedono di più cioè quando allora io faccio come vi dicevo non non sono una né una performer né un'attrice ma comunque eh c'è moltissima gente che mi contaccia oddio moltissima gente adesso sembra che sono tipo Valentina Nappi al limite Valentina Naspi e cioè ci sono state soprattutto durante la il primo la prima ondata di di lockdown l'anno scorso eh un po' di persone che mi hanno contattato per chiedermi se io performavo se facevo video eccetera e tutti cercano proprio quella roba là no ti voglio vedere come godi mandami una foto così mandami un video cosa cioè ti pagano per quello cioè vogliono vogliono proprio vederti godere vedere che sei autentica che che ti sta piacendo quindi è per quello secondo me che è così tanto cercata la quella categoria perché perché la gente aspira a qualcosa di autentico vuole medesimarsi secondo me in qualche modo c'è questa ricerca dell'immedesimazione che assolutamente cioè plausibile molto insomma anche abbastanza naturale no secondo me sì tra l'altro nel senso la la mia impressione infatti è che poi si arrivi fino a appunto tu ricevi produzioni eh amateur che poi non sono davvero amatoriali eh cioè si arrivi poi alla alla parodia parodia quasi dell'autenticità e per cui secondo me fare del del porno invece davvero sceno vuol dire entrare da quella porta no dire ok volete qualcosa di autentico eccola ecco quello che è davvero autentico e quindi fare qualcosa che poi davvero ti sconvolga cioè che non ti non ti culli nelle tue nei tuoi semplici desideri o nei tuoi stereotipi e infatti e anche l'altra volta era successo eh diciamo io cerco di riportare un po' eh i termini del dibattito però sono d'accordo anch'io che non hanno senso queste categorizzazioni eh non hanno senso né a livello di ehm anche se anche solo se si fa un'analisi del pubblico non hanno senso e poi spesso non hanno senso anche a livello formale cioè per poi come sono fatti effettivamente eh i film o i video eh del di qualunque genere di pornografia eh per cui sì sono d'accordo insomma a grandi linee e e l'idea appunto quella che probabilmente un una un porno che abbia da dire qualcosa eh lo debba dire nel modo più crudo possibile cioè senza senza usare nessun tipo di retorica o di orpello e arrivare dritti al punto questo è una cosa che eh ho visto in love meetings e anche in in camper e e anche l'altra cosa importante l'esibizione di qualunque tipo di corpo ok qualunque tipo di corporeità quindi non solo un qualcosa di standard non so se adesso mi risponderanno loro non so se i Galliardo se la studiano un po' questa cosa cioè ricercano eh molto questa diversità nei vari eh nei vari partner che ci sono per esempio in love meetings eh però quello che ne esce fuori è un quadro di varia umanità ok dove nessuno è simile a nessun altro non so quanto questa cosa sia dovuta al fatto che il vostro pubblico è già così perché voi siete così oppure un po' ci pensate su anche se penso di sapere la la risposta guarda tutte le persone che hanno risposto alla call sono nel film non abbiamo fatto nessuna cernita eh le persone si cernitano da sole e le Galliardi evidentemente sono così sono sì come ti dicevo prima non arrivano a caldo mai però è chiaro che ci piace molto poter mostrare questa cosa è una cosa che non 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 a cui non abbiamo mai aderito e che comunque non ci non ci diverte neanche nel guardare eh altro porno è questa cosa dei 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 corpi eh tutti uguali comunque che seguono degli standard mi sembra appunto di non vedere una cosa che riesce a a a colpirmi e poi quindi in cui riesco a immedesimarmi forse se fossi un addone mi piacerebbe vedere degli altri addoni non lo so però non lo sono e quindi mi piace vedere oggi in cam ho visto uno lì con quei pettorali spospolpiti cavoli mi è venuta l'acqualina insomma io devo dire sono pure quelli belli però mi piace a me piace la persona quindi sì e poi soprattutto purtroppo anche lì sarà un programma io però mi sembra bello mi sembrano belle delle persone io ho visto tutti belli quindi è questo sì intendiamo come canone magari non lo so tu intendi tipo il fusto classico intendi questo con diversità diversità in tutti i generi sì nel senso l'essere umano quando lo vedi da vicino è strano quando lo vedi le imperfezioni di ognuno e la poesia della bellezza la dall'arrappamento se sei arrapato e ti stai arrapando l'altro è meraviglioso è anche vero che il feedback spesso mi è arrivato magari da a chi apprezza di più il porno classico in avocaliforniano come vogliamo chiamarlo perché è troppo vedere diventa così come dire normale che potrei essere io potresti essere tu e fa quelle cose lì diventa anche forse per alcuni troppo troppo personale proprio perché ci si riesce troppo a identificare e magari c'è chi vuole magari perché ha un suo rapporto con la sessualità particolare o perché proprio sentirsi distaccato da quello che vede anche questa è una cosa interessante perché secondo me è uno dei modi in cui uno dei modi che si può usare questa cosa mi è venuta in mente a hacker porn di qualche anno fa e dove c'era davvero una varietà di materiale tale per cui era impossibile identificarsi in tutto quello che si vedeva ok ho visto molte cose in cui non mi identificavo fosse anche un film con protagonisti transgender non sono un transgender e quindi non mi potevo identificare ma comunque diciamo la curiosità o anche solo il potersi sconvolgere davanti alla rappresentazione del sesso dovrebbe poter passare secondo me anche da tutte quelle quelle situazioni in cui è impossibile identificarci quindi non solo qualcosa che è normale vicino a noi o qualcosa che appartiene ai nostri schemi mentali perché è ed uso nel porno da decenni ma anche qualcosa che invece non si è mai visto e che forse non vedremo mai nella nostra vita e anche questa è una funzione di cui tener conto credo almeno l'estrenazione della fantasia cioè della prezione di un immaginario nuovo cioè la fiction oppure sognare perché no sì ma questo lo comunque lo te lo fa anche quando vedi i corpi diciamo non stereotipati lì la fantasia ancora di più secondo me io vedo nell'amatoriale cose stranissime a volte strane intendo lontane lontane da quello che è la mia esperienza ed è bello sì sì esattamente questo intendevo cioè qualcosa che di cui magari sulla carta non direi che se devo fare una critica se devo fare una critica all'immaginario diciamo hollywoodiano è che è rassicurante è troppo rassicurante che quello che dicevi diceva anche voi prima del porno dove non si fa male nessuno addirittura adesso si parla di porno politicamente corretto che io spero dovrebbe essere uno simolo io non so perché la gente la gente ha paura ha paura anche della satira ha paura degli estereotipi cioè l'estereotipo è un strumento di rappresentazione di narrazione non è il male il male che tu ti vedi lì e ti vedi brutta è un pessimo rapporto con questa parte di te che vedi lì sottolineata magari anche grottesca stai male te la prendi con chi punta il dito ma guarda la luna invece di guardare il dito non so questo secondo me è un problema che abbiamo in generale e si ripercuote ovviamente in maniera furiosa in relazione alla sessualità che è un tasto dolente beh sì certo se poi l'intento del di questo porno politicamente corretto è di eliminare alcuni tipi di rappresentazione chiaramente follia cioè qualcosa che noi dovremmo allargare invece il più possibile lo spettro di ciò che è rappresentabile non il contrario proprio perché non si tratta solo di identificarsi in un ideale o in qualcosa di personale ma anche in qualcosa di totalmente alieno dalla nostra esperienza se no se no non ha senso se no non c'è crescita non che uno debba per forza fare del del porno per trasmettere un messaggio politico quello che è però di certo male non fa ecco ma sai secondo me cioè il mandare il messaggio politico oddio ci saranno sicuramente dei film dove c'era un'intenzione a monte ma poi dei messaggi arrivano comunque perché lo stabilisce come tu hai raccontato quella storia che persone ci hai messo che pratiche hai messo in scena come l'hai girato come l'hai montato quindi cioè questo è già un prodotto un prodotto politico secondo me e come diceva Maria Tinta cioè per me è veramente aberrante questa cosa del politicamente corretto cioè è come se tu volessi ammaestrare gli squali cioè perché ti piacciono gli squali perché sono totalmente imprevedibili li reputi magari anche feroci non lo so aggressivi quel che è perché perché ne hai paura perché non li conosci cioè ma è quello no il fascino non lo so questa cosa veramente forse siamo talmente destabilizzati da questa incertezza che vorremmo appunto mettere dei punti fermi e quindi appunto il politicamente corretto e il porno che deve essere fatto in un certo modo ma quello che deve cambiare è la modalità di produzione quello assolutamente sì ma dobbiamo cambiare la modalità di produzione di qualunque aspetto della nostra vita da quello che mangiamo a quello che indossiamo da chi andiamo a votare da come votiamo a quello ai prodotti culturali che fruiamo quindi voglio dire non devono essere le storie secondo me a cambiare ma come il processo di produzione con cui vengono costruite quelle storie cioè che la gente deve essere pagata che non deve lavorare 20.000 ore al giorno che ci deve essere rispetto eccetera eccetera ci deve essere inclusione queste cose devono cambiare ma non possiamo fare dei porno per esempio dove non bisogna rappresentare parlo di rappresentare quindi la pedofilia o rappresentare lo stupro o rappresentare altre cose cioè io quando sento queste robe qua dico ma no abbiamo bisogno di raccontarle queste fantasie queste dinamiche perché sono l'unico modo sano per come dire per per affrontarle per affrontare questi demoni che noi ci portiamo dentro e però cioè vengono tirate in ballo delle cose in maniera pretestuosa cioè soprattutto poi quando si parla di certi temi appunto la pedofilia che è come se stessi dicendo ah vuoi mettere in scena i bambini no voglio mettere in scena un adulta che interpreta una bambina e un vecchio bavoso che se la scopa quello per me è catartico perché perché la realtà altrimenti sarebbe un vecchio che si scopa davvero una bambina e quello non è catartico quello è agghiacciante dal mio punto di vista però ecco cioè se ci tengono queste no dico sono temi che entrano poi anche nel cinema nel cinema non pornografico quindi non si capisce perché nel porno dovrebbero essere eliminati a maggior ragione dovrebbe essere qualcosa di di interesse per coloro che rappresentano la sessualità umana ma poi il desiderio è privo di morale cioè il desiderio è irrazionale illogico immorale cioè scusate non immorale cioè non può essere moralizzato cioè se io nella mia fantasia immagino di scoparmi gli animali ha voglia che tu mi dica non scoparti gli animali io nella mia fantasia continuerò a sognare di scoparmeli poi da qui a farlo un altro paio di maniche ma perché perché ci sono tutta una serie di norme di regole e di leggi che ci siamo dati per una convivenza civile però c'è anche questa secondo me cioè stiamo diventando un po' una società scema cioè secondo me ci stiamo rimbecillendo perché è come se non riuscissimo più a distinguere sì ma non solo infantilizzando ma proprio ci stiamo rincoglionendo secondo me scusate se uso tante parolacce però e mi sto anche infervorando però mi sembra veramente che ci stiamo trattando da pirla negli ultimi anni come se non fossimo più in grado di distinguere il piano della fantasia il piano della rappresentazione poi separarlo dal piano della realtà e anche fare dei ragionamenti sul perché ci diamo determinate regole cioè non lo so penso a un pezzo di Montanini lo stand up comedian in un pezzo in cui dice che una secondo lui una società con così tante regole è una società che ha fallito perché se tu non ci arrivi da solo che non devi ammazzare qualcuno ma lo devi mettere nero su bianco evidentemente come dire non sei così emancipato ed evoluto e io la penso esattamente nello stesso modo cioè non non lo so mi sembra che veramente stiamo facendo da questo punto di vista un sacco di passi indietro cioè per paura poi di cosa non si capisce cioè il porno politicamente corretto ma io cioè ma io uno divento un troll e dall'altra parte inizio a sterminare le masse cioè come fai cioè ti sale l'olocausto cioè a me sale l'olocausto dentro ve lo dico va bene perfetto puntata censurata da di